Iglésias, brutto risveglio ieri mattina per il quartiere di Col di Lana. Un'auto è andata a fuoco per cause ancora da accertare. Aveva 70 anni ed era pensionato. L'uomo trovato deceduto ieri nelle campagne di San Giovanni su Ergiu. Prosegue la mobilitazione dei lavoratori AT-IFRAS da oltre un mese accampati sotto la regione a Cagliari. Al via nei prossimi giorni a Domus Novas il concorso letterario Fiabe e racconti di bambini. Buon mercoledì 18 ottobre a tutti i telespettatori di Canale 40 ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro Tg. Apriamo la prima parte con la notizia di un incendio di una macchina nel quartiere di Col di Lana a Iglesias. Vediamo tutti i particolari nel servizio. Ieri mattina il quartiere di Col di Lana a Iglesias si è svegliato di soprassalto a causa di un incendio che intorno alle tre di notte ha distrutto un'automobile di un residente della zona. Ad andare distrutta a causa delle fiamme è stata una Citroen C3 di un giovane. Solo l'intervento degli abitanti del posto, dei vigili del fuoco, ha permesso di limitare i danni all'auto e di non coinvolgere altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Nel frattempo i carabinieri, dopo aver effettuato tutti i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità. Si chiamava Giuseppe Crastus, il settantenne trovato deceduto ieri mattina nelle campagne di San Giovanni Suergio. Vediamo. Dredizione del nostro TC di ieri, avevamo annunciato una notizia appena giunta in redazione sull'invenimento di un uomo deceduto nelle campagne di San Giovanni Suergio, senza però potervi fornire le generalità e le cause in quanto il fatto era appena accaduto. A differenza di oggi. L'ipensionato Giuseppe Crastus, settant'anni residente della frazione di Mazzaccara, è stato ritrovato già deceduto nella zona contigua alla necropoli di Slocis Santus. Per lui non c'è stato nulla da fare. Le cause della morte, si apprende, sono riconducibili a un attacco cardiaco che, con tutta probabilità, lo ha colpito mentre guidava la sua macchina, obbligandolo a fermarsi e a scendere nel tratto di strada bianca, dove è stato successivamente notato dalle due donne che hanno poi lanciato l'alarme. Il Comune di Carbonia verrà finanziato nei prossimi anni per 240 mila euro dalla Fondazione Banco di Sardegna. Il finanziamento sarà orientato a quattro progetti di relevanza culturale. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. La Fondazione del Banco di Sardegna ha deciso di stanziare 240 mila euro a favore della città di Carbonia per il triennio 2018-2020 allo scopo di promuovere iniziative di tipo culturale e sociale. L'ente di promozione guidato dall'ex parlamentare presidente di regione Antone Rocavras finanzierà in particolare quattro iniziative e nello specifico il Festival internazionale Notia Montessirai, il Festival nazionale di fumetto, satira e cinema d'animazione e nuvole parlanti, un master in architettura del paesaggio e l'istituzione del centro studi mediterraneo del paesaggio. Le risorse saranno distribuite annualmente per 80 mila euro all'anno. Un risultato per il quale l'amministrazione comunale di Carbonia, che nei mesi scorsi aveva formulato la richiesta alla Fondazione, ha espresso forte soddisfazione e tramite i propri rappresentanti, la sindaca Paola Massida, gli assessori Luca Cascini e Sabrina Sabiu, ha definito fondamentale per sostenere la città nelle prossime sfide che la tendono nel settore culturale e in quello dell'architettura del paesaggio e della pianificazione territoriale. Bentornati in studio, apriamo la seconda parte del nostro Tg parlando delle difficoltà del comparto zootecnico. Il Movimento Pastori Sardi, dopo la doccia fredda dei giorni scorsi sulle limitazioni per l'ottenimento dei contributi economici stanziati dalla Regione, ha annunciato una nuova mobilitazione. Dopo la notizia divulgata nei giorni scorsi, secondo la quale 45 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale per i pastori, non potranno essere erogati a coloro che non saranno perfettamente in regola con i contributi IMSS, il Movimento Pastori Sardi ha dichiarato di essere pronto a una nuova mobilitazione. È stato il leader Felice Floris ad annunciarlo su Facebook e a spiegare tale decisione stigmatizzando in modo retto la decisione della Regione di non aver mantenuto i patti. Secondo il leader dei pastori, considerata la grave siccità è la crisi derivata dal crollo del prezzo del latte che ha portato tanti allevatori a non avere materialmente le risorse economiche per mandare avanti le proprie aziende e ottemperare a molti degli altri obblighi. È assurdo che nell'elaborazione delle procedure della pratea dei beneficiari degli aiuti economici stanziati dall'amministrazione regionale si è lasciata carta bianca ai burocrati senza tenere conto del contesto economico sociale nel quale i pastori sono stati obbligati a operare in questi anni. A tal proposito, i pastori hanno dichiarato di essere pronti una volta convocate tutte le assemblee territoriali a invadere Cagliari. Prosegue l'iniziativa di lotta dei lavoratori ATI-IFRAS da oltre un mese accampati sotto la Regione a Cagliari per chiedere chiarezza sul proprio futuro. I particolari nel servizio di Manolo Muridu. Continua l'iniziativa di mobilitazione dei lavoratori ATI-IFRAS di cui diversi provenienti dal successo iglesiente che da almeno un mese hanno intrapreso un sit-in sotto la Regione a Cagliari. L'azione di protesta, hanno dichiarato i lavoratori, andrà avanti finché la Regione non presenterà il crono programma per la ricollocazione delle maestranze più volte promesso ma che ancora non è stato concretizzato. Questo nonostante le rassicurazioni dell'assessore Filippo Spanu che ha esplicitato i piani della Regione per la riassunzione di tutti i lavoratori e nello specifico 118 all'Igea, 136 accompagnati la pensione e 222 agli enti locali. Anche Carbonia parteciperà alla settimana europea del coding. L'iniziativa sarà promossa nel territorio dall'associazione Fab Lab Sulcis. Guardiamo insieme. Anche Carbonia parteciperà alla settimana europea del coding per favorire l'alfabetizzazione funzionale promossa dall'Unione Europea in ambito continentale per stimolare lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale come strumento di crescita individuale e collettiva. Il sodalizio Fab Lab Sulcis in collaborazione con Sardus Pro SpiPius proporrà a partire dal giorno 20 una serie di corsi indirizzati a diverse fasce di età a partire dai 3 ai 6 anni ma anche per i più grandi allo scopo di avvicinarli nel modo più semplice e sicuro possibile all'uso e alla conoscenza degli strumenti informatici. I corsi saranno gratuiti e saranno articolati su due turni della durata massima di un'ora per 10 bambini per volta. Le informazioni per aderire all'evento potranno essere reperite dalla pagina Facebook degli organizzatori dal nome Fab Lab Sulcis. Bentornati in studio. Apriamo la terza parte parlando di diritto alla salute per gli anziani. Si terrà domani mattina a Cagliari un convegno dedicato alle vaccinazioni e all'invecchiamento attivo al quale parteciperanno diversi rappresentanti sindacali del Sulcis. Si parlerà di vaccinazione e invecchiamento attivo nell'incontro organizzato dai pensionati di CGL e CISLEWIL per la giornata di domani a Cagliari e al quale parteciperanno diversi rappresentanti sindacali del Sulcis Iglesiente. L'incontro è promosso per rivendicare il diritto alla salute e una qualità di vita dignitosa per gli anziani in questo particolare contesto storico dove gli indici di deprivazione di questa categoria soprattutto in Sardegna hanno toccato livelli di guardia. Presiderà la manifestazione il segretario generale della SPI Sarda Marco Grecu residente nel Sulcis e subito dopo sarà la volta dei saluti istituzionali del sindaco di Cagliari Massimo Zedda e poi della relazione introduttiva del responsabile politiche sociali della FNP Sarda Graziano Meroni. Interverranno in serie Michele Conversano, Fulvio Moirano, Raimondo Iba, Federico Argiolas, Marco Magheri e Luigi Arru, assessore regionale alla sanità. Chiudere al dibattito la segretaria nazionale Wilp Livia Piersanti. Ai nostri microfoni Tonino Cossu, presidente dell'AMPTI che abbiamo intervistato sull'iniziativa di solidarietà organizzata dai paracadutisti sul Citani a favore dei bambini ricoverati all'ospedale microcitemico di Cagliari. Guardiamo. Siamo in compagnia di Tonino Cossu, presidente dell'associazione Paracadutisti. Per le prossime settimane state organizzando un'importante iniziativa nella quale andrete a dare sostegno, solidarietà e anche dei regali ai bambini malati ricoverati nell'ospedale microcitemico di Cagliari. Buongiorno a tutti. Sono il presidente dei paracadutisti ampi di sezione Carboni Iglesias. Niente, noi da diversi anni abbiamo preso l'iniziativa, prendiamo, di andare a trovare e visitare una visita di cortesia ai bambini ricoverati all'oncologico microcitemico di Cagliari. Siamo stati anche al Bruzzo, siamo stati all'ospedale di Iglesias. Portiamo i bambini che facciamo intervenire nelle scuole elementari, che ci conoscono perché siamo già stati, abbiamo fatto delle esibizioni, abbiamo aperto paracadute ai bambini, facciamo vedere tutto. E quindi facciamo intervenire la preside della scuola, come quest'anno si interviene la preside della scuola Dominani, la professoressa Anna, non ricordo il cognome, la professoressa Anna, dove ha fatto una circolare, ha fatto circolare per far intervenire i genitori dei bambini per darci qualcosa, quaderni, materiale didattico per portare i bambini. Noi non lo facciamo per protagonismo, lo facciamo per solidarietà, perché, ripeto, abbiamo visto dei bambini visitati, che i genitori abitano molto lontano dal microcettivo, sono soli, allora portiamo un albo da disegno, un giocato, in modo che il bambino si distorga un po', con il sorriso. Ci scambiamo tanti di quei sorrisi e siamo orgogliosi di essere come noni, a fianco ai bambini, quando gli doni di altri bambini che danno ai bambini meno fortunati. Grazie a tutti. Fiabe e racconti di bambini è il nome del concorso letterario che andrà in scena nei prossimi giorni a Domus Novas. Sentiamo. Prenderà il via il 21 ottobre prossimo a Domus Novas il concorso letterario dal nome Fiabe e racconti di bambini orientato ai piccoli dagli 8 e 15 anni che con i propri racconti e fiabe vorranno concorrere e divertirsi con i propri coetani. Ogni narrazione dovrà essere ambientata nel comune di Domus Novas mentre la lunghezza sarà a piacere. I testi potranno essere inviati all'indirizzo mail assoelda.ms.libero.it o consegnati a mano entro e non oltre il 21 ottobre. Tre premi previsti per i primi tre classificati che verranno assegnati il 29 ottobre al Monte Granatico. Il primo sarà in denaro per una cifra di 70 euro, il secondo sarà una confezione di quattro libri e il terzo di due. Contestualmente alle premiazioni verrà presentata la prossima iniziativa costituita da un giornalino trimestrale redatto dai bambini. Il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo che come sempre adesso andrà in onda Noas in Curzu, il nostro telegiornale in linguassarda condotto in studio da Guido Cadoni. Arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti!